Musica Amici di Irpina Sannio, buon inizio settimana, benvenuti alla nostra rassegna stampa sport. Oggi in compagnia dei tre quotidiani provinciali, mattino, otto pagine, il quotidiano del sud. Parleremo della vittoria del Napoli che va con soli del terzo posto in classifica. Parleremo della sfida di questa sera dell'Avellino e del Benevento Calcio. E partiamo dal mattino, quindi Napoli Champions più vicina. Il Napoli vince col Chievo Verona e va avanti in classifica, meno 4 dalla Roma. Avellino alla Spezia, operazione riscatto. I Lupi attesi allo stadio Ligure per provare ad arrivare al quarto posto in classifica. E torniamo sempre al Napoli, assalto Napoli. Il secondo posto è a meno 4, grande vittoria degli uomini di Benitez. Andiamo a vedere un po' le pagelle del mattino. Raffael 5, ancora incerto nelle uscite. 6-5 Maggio, 5-5 Albiol, 5-5 Britos, Strinic, grande acquisto 7. 5 Giorginio, 6 Davdi Lopez, 7-5 Gabbiadini, 6 De Guzman, 5-5 Mertens, 6 Guain, 6 Caleon, 6-5 Gargano. I migliori in campo, in pratica, i due neo acquisti del Napoli. 7 anche al mister Benitez. E proprio Benitez sfida la Roma in modo ironico. Secondo posto, neanche so quanti punti abbia la Roma. Benitez, blef e sorrisi. La classifica conta soltanto alla fine. Chiudiamo con Gabbiadini, che è stato il migliore in campo. Super Gabbiadini lancia la sfida. E ora vogliamo vincerle tutte. Prima rete in azzurro con dedica, per chi mi dimostra affetto. Passiamo anche alle note idolenti, però, del Napoli. Ma la difesa sbanda sempre. Già 26 reti incassate. Ancora una volta a pasticcio di Raffael e Britos nella partita di ieri. E passiamo al quotidiano otto pagine, che naturalmente parla della sfida dell'Avellino e di quella che è stata la partita del Benevento di sabato. Avellino, l'ora del riscatto. L'Avellino alla spezia per cancellare. Cittadella. Tegola, Visconti, Cappalo della rifinitura. Dentro, Zito. Andiamo un poco alla classifica, alla formazione, chiedo scusa, dell'Avellino. In Porta Gomis, Pisacane, Lì e Chiosa. In difesa, Regoli, D'Angelo, Arini, Schiavone, Zito. Sul centrocampo, Comi e Castaldo in attacco. Quindi restano ancora una volta fuori i nuovi acquisti. Trotta e Mokulu. Passiamo allo spezia. Bielisa tra carica e pretattica. Anche noi in campo col 3-5-2. Può essere un vantaggio. Gli avversari. Il tecnico invita i suoi alla massima attenzione. Ricordiamo che lo spezia è praticamente terza in classifica. L'Avellino potrebbe arrivare quarta nel momento in cui andrà a vincere in terra Ligure. Passiamo al Benevento. La giornata a grandi rischi si chiude senza danni. Il rammarico dei quattro punti svaniti negli ultimi tre minuti di gara allo Zaccheria e alla Rechi. Pari anche per le Vespe. Ancora aspettando il giudice sportivo. Incredibile serie di abunizioni nella Lupa Roma. In quattro erano diffilati e saranno squalificati. Ma ci sono anche due espulsi, Conson e Del Sorbo. Ancora squadra e mercato. Vediamo in taglio basso. Per Lucioni nulla di preoccupante. Mercato. Il Benevento chiude i battenti. E chiudiamo con otto pagine. Passiamo al quotidiano del Sud che naturalmente dà grande attenzione alla partita di questa sera dell'Avellino. Lupi è il momento di vincere. Stasera alle 20.30 c'è lo spezia. Rastelli deve fare a meno di Visconti. E vediamo qui i convocati. Angelì è ruolato per il match. Le probabili formazioni. Bielisa non recupera Wande. Vediamo che praticamente Bielisa propone Cicizola, Migliore, Valentini, Piccolo, Milos, Bakic, Canadija, Brezovec, Giannetti, Krizic, Catellani. Al rispondere Lavellino con Gomis, Pisacane e Licchiosa. Schiavon, D'Angelo, Arini, Regoli. E praticamente Zito. Qui c'è un doppio Regoli, c'è un errore. Qui c'è Zito sulla sinistra. Castaldo e Comi. Passiamo alla squadra avversaria. Quindi il punto. Alcuni alla ricerca del primo acuto contro Lavellino. Un destino in comune tra le due formazioni. C'è stato un piccolo errore dei colleghi del Quotidiano del Sud. Quindi un destino in comune tra le due formazioni. Andiamo a vedere la classifica. Carpi 49, Spezia 39, Bologna 38, Frosinone 35. Lavellino è a 33. Vincendo arriverà praticamente quarto in classifica alle spalle di Carpi, Spezia e Bologna. Partita decisiva e quindi questa sera in terra rigure per gli uomini di Mr. Rastelli. Vi ringraziamo per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con il Pinasagno TV. Grazie a tutti.